Il combattimento non si cambia il programma di combattimento Ok, durante una combattimento non cambia il modo che si cambia Non cambia il modo manuale, come giocare con l'armi È come quando si train e quando si gioca con l'armi Non in una combattimento reale non cambia Ma è stato un po' 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 Quando il movimento dell'armi Per fare la rotazione, devono dare un movimento della braccia come nel camping Quindi quando vuoi cambiare la forma che vuoi cambiare, l'effetto è simile con quello che vuoi fare con il tarabito. 5. Mi avvicino, cambiò la ruota. Da qua l'ho messo qua. Poi, il palmo della mano che spinge fa questo. Non devono cercare di ruotarlo. La mano rimango ferma. 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 E rotazione del polso. E poi uso il movimento del braccio. E poi uso il movimento del braccio. Ok, questo è lo stesso come... Ok, come questo, e poi prendi questo. Ma ora, se prendi questo, andi a cambiare. Ok, adesso devi vedere il braccio. Ok, ok. Ok, ok. Ok. E così è il suo interesse. Poi posso usare questo. E non si usa il movimento. Ma il cambio, se sono qua, alzo, lui cambia. Da qua, scende, lui cambia. Ok. E' solo come palleggiare per il bracciatore. E sviluppare... Io dico giocate con l'arma perché dovete entrare in confidenza con l'arma. Poi c'è chi preferisce combattere con l'immigiatura all'inversa. come tutte le cose, con l'immigiatura a vantaggio e svantaggio. Come tutte le cose, con l'immigiatura a vantaggio e svantaggio. Anche le cose, con l'immigiatura a vantaggio, con l'immigiatura a vantaggio e svantaggio. Quindi è tutto soggettivo. di questo obiettivo. Dipende da quando mi fai il vetto e da quando mi fai il... Ok. Domande? Questions? Ok. Quindi... Speriamo... Quindi facendo vedere... Adesso andiamo a lavorare su... Figura 8. Ok. Triangolo. Quindi parto con la figura 8. Uno. Due. Quando arrivo qua? Triangolo. Ok. Facciamo assieme. Ok. uno. figura 8. figura 8. Triangolo. Triangolo. due. shape 8. Triangolo. tre. figura 8. triangolo. quattro. Зapano Quattro. Figura otto. Triangolo. Adesso facciamo triangolo, figura otto. Adesso facciamo triangolo. Quindi partiamo. Uno, due, tre, figura otto. Quindi ripartiamo dal centro verso lato destro. Uno, due, salto. E adesso da qua ruoto figura otto. Uno, due, tre, otto. Uno, due, tre, otto. Uno, due, triangolo. Otto, triangolo, otto, triangolo, otto, triangolo, otto. Facciamo la sequenza. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ok. Adesso faccio sempre triangolo ma parto sul lato costo del triangolo. Ok. e poi da figure di quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. Da qua ruoto il polso. Vedete che vado sulla mia diagonale e entro. Quindi uno, due, tre, quattro. La figura otto è al mio centro. Quindi sarà sul mio esterno, attraverso esterno, centro. Raduci. Esterno, esterno, centro, centro. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque. Due, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok. Da qua voi potete creare sequenze solo con una figura otto. Il applying video è di più главное sempre legato. Il più moles meglio. Si 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 susfiega. Un imitato. Solo con unauitsa. Solo con un triangolo. Solo con un triangolo. Solo con un triangolo. Si mi sento una figura otto e un asterisco. A visita? Ha visita è?対ого. Cirita otto e un triangolo. In sorts. Arran di appare e a spiagliare tutte insieme. up to doing all the three things together dovete studiare la sing anche nel movimento la singola figura so you have to start with single first, ok e poi mischiare and then you can mix ok quindi su questa base voi potete sviluppare sia la fase di attacco noi abbiamo visto che posso fare i movimenti con la punta con il taglio e con questa parte del coltello so again so you can do with the earth with the blade or with the angle or with the point ok attacco faccio la figura 8 dove il primo movimento sulla mano faccio il taglio e poi entro con con il manico del coltello ok ora ho configurato il primo movimento è il taglio sul taglio sul taglio e poi entro con il manico oppure entro con il manico sul suo taglio con il manico o con questa parte del branch ok con il manico posso fare tutto con la lama posso fare tutto con la lama posso fare tutto con la lama tutto con la partura ok punta taglio uno con il pugno taglio 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 Quindi voi dovete calcolare sempre tutta l'arma e poi la stessa figura lavorarla con gli stessi punti dell'arma e mischiare anche i punti dell'arma. Anche l'asterisco, posso andare a lavorare con il banco, anche l'endore che mi rendo. Con la punta. Con la punta. Al contrario. Con la punta. 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 taglio, uso solo il taglio taglio, taglio, taglio uso il primo taglio, poi il pugno e poi il taglio ok, il suo steccato, deneato, deneato pugno, 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 taglio ok, handle, handle, taglio oppure, handle, handle, point ok, quello che potete creare è infinito quindi potete creare un singolo di mente creare il creabile fa sviluppare la mente e creare le due sequenze ok, il training e le singe quindi fare tante sequenze tanta coordinazione notoria su quelle sequenze e questo fa sì che loro riescono a creare una cosa che per loro è più funzionante e se io do esattamente quello che io ho per loro può non essere la cosa migliore devo usare questi strumenti perché loro possano creare troppo perché questi sono strumenti che tutti hanno per loro credendo che tutti hanno di essere i concetti sono questi ma i concetti sono questi ma i concetti sono i concetti che si sono i concetti ma un modo che si è così che e poi mischiarli. Ok, e la cosa importante è portare tutto nello spazio del pubblico. Allora, adesso per l'ultima cosa vi spiego il percorso. Allora, la prima cosa che devono fare è gestire una persona non esperta. Cioè il primo step di un addestramento, di una preparazione è riuscire ad arrivare a gestire una persona non esperta. Allora, la prima parte della pratica è imparare a gestire una persona non esperta. Da di voi sviluppo delle conoscenze, delle attitudini che mi permettono di confrontarmi con la persona esperta. Allora, la prima parte della pratica è riuscire ad arrivare a gestire una persona non esperta. La persona non esperta crea degli errori da sola. Quindi io devo avere una conoscenza base e sfruttare gli errori più reali. Confrontarmi con una persona invece esperta, vuol dire che lui da solo non ha commettere errori. Quindi devo essere io a fargli creare il mio lavoro. Quindi è il mio lavoro di fare gli errori. Ok. La persona non esperta nella gestione delle armi tende ad aprire. La persona non è un'esperta, tende ad aprire. Quindi la persona non è un'esperta. Questo è un movimento. Questo è un movimento molto più grande. No spazzo può rilassare. In movimento, ci sono molto spazzo. Io devo sfruttare semplicemente quelli che sono i suoi errori. Io devo sfruttare semplicemente quelli che sono i suoi errori. Nell'altro è l'exportivo di essere. Non fare nient'altro. Lui apre è molto semplice perché è molto aperto, è come nella strada che partono, quindi devo rimanere sfrutto il centro. L'esperto non rilascia uno spazio, non rilascia uno spazio, non posso entrare. Devo essere io a creare un errore. E lì nasce la strategia. Per poter far sì che la sua guardia si apre. Vado al centro per andare in esterno e poi attaccare il suo spazio. Cioè sono io che devo fargli aprire la guardia perché se no non mi continuo. Questo concetto deve essere ben chiaro perché loro devono andare a curare per commettere meno errori. Non devono essere loro a commettere l'errore. E questo concetto è molto importante perché ti pratica quando ti pratica ma non in alcuni errori. e non in alcuni errori. Ok? E il primo è quello dell'allarma sempre. E si deve essere sempre aperto. E i primi passaggi del senso sono quando sei sempre in fronte di me. Ah! Un errore che si fa sovente nell'allenamento. E quando fanno gli attacchi in amuri. E quando fanno gli attacchi in amuri. E quando fanno gli attacchi in amuri. Uno si è abito a fare scuola. Ok? Sto allenando un errore. E in questo modo io sto praticando il campo. Perché non mi attacchi in amuri, perché invece di blocarci in amuri in amuri. E quando fanno la spazio, io sto concentrando sull'acchi in amuri in amuri. Perché se lui attacca me. Perché se lui attacchi. Perché se si usano l'attacco sull'attacco. Lui deve preoccuparsi dell'armo immobili. Quindi il mio commento è di sfruttare il mio verbo e non di me. Questo è fondamentale. Questo è molto importante. Mi devo abituare che appena c'è un varco, c'è uno spazio, devo praticare in modo che quando ho percepito un spazio fuori tra me e i miei commenti, devo andare in finito combattimento. E poi devo cercare di sfruttare il mio commento. Ok. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, sono disponibili. Ok. Se no, soltanto sono le quattro e le dieci. Chiudiamo e vi mando poi il video. e mi potete iscrivere, contattare per avere supporto tecnico. e se avete bisogno di supporto, scrivete o mi raccontate sui canali che avete già conosciuto. e vi saluto. Vi saluto. Ok. Vi saluto. Ok. 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 Allora l'impugnatura diversa mi dà la forza che perde il grip, quindi è debole. Ok. Se lui usa questa impugnatura è debole qua. Ok. Ma lì dice che se lo senti nel tempo usa la nostra parte. Ok. È una questione di abitudine? Allora. L'arma va a costruire, cioè deve essere bilanciata per quel lavoro. Ok. 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 Dove essere s Uncle apare. For... To be used... Basement or any way she won't fire when you end it. Because... When you end it... ...POI deve appoggiare su questa linea qua. Dio! Ok. You end it... You end it... Quando lui per allenarlo deve mettere così e spingere. o spingere l'impugnatura. Poi, se usare una o l'altra dipende dalle caratteristiche perché per esempio io l'altra impugnatura la sento debole. E' una questione fisica. Io cerco di spiegarlo, vediamo se lo capisco. Io personalmente ho più forza nei muscoli interni ed esterni, non nel centrale. Quindi questa posizione per me è forte perché prosegue nel mio esterno. Riesci a spiegartilo? Allora, nel corpo, spiegami, nel corpo. Ok, in mio corpo abbiamo i muscoli frontali. Ok, hai diversi muscoli. E quindi ho più forza nei muscoli interni ed esterni. E quindi con quella impugnatura, con quella impugnatura, riesco a sfruttare meglio la parte esterna del corpo. Ok, quindi la forma in cui ho fatto il macchetto e il knife, se uno invece ha forte gli altri se uno dei corpi ha effetti gli altri mascoli, anche per la mano e dietro allora probabilmente la forma in cui ti senti meglio e l'opera è l'opportunità noi abbiamo due cinetiche fondamentali il movimento del corpo quello a omola in questo caso abbiamo due condimenti come l'opera che sfrutta i muscoli che sfrutta i muscoli che sono frontali e posteriori poi abbiamo il movimento a scuotere e poi abbiamo il movimento a scuotere che sfrutta che sfrutta i muscoli sull'altra parte io ho più forte lo scuotere quindi il mio strumento di scuotere il mio strumento di scuotere è il movimento a scuotere e quindi l'impugnatura lega con la mia mano e questo è un modo di rendere il movimento a scuotere il movimento a scuotere è sicuramente limitato con il fatto che il mio strumento è sul movimento bisogna vedere singolarmente loro provano quale è più comoda per correre per me questo è scuotere per me questo è scuotere per me questo è scuotere il movimento a scuotere e se abitano più abbiamo il movimento di scuotere e se abitano più e non è più confortabile con il movimento in cui se sento più e se sento più il movimento man mano dovremo scoprire quali sono le loro cinetiche di forza per andare a montare nel modo giusto e nel modo giusto e nel modo giusto proviamo a capire i movimenti in modo giusto 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 adesso è più chiaro dire che ha capito perchè se è chiaro se è chiaro se è chiaro se ho risposto la sua cosa se è chiaro 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 di provare ok intanto deve lavorarci un cosa che per lui è nuova ok quindi quando stiamo qui e poi in modo giusto 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 che non è più bello in modo giusto 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 in modo giusto